Ciao a tutti ragazzi, bentornati finalmente in questo nuovo video, oggi direzione stadio Andiamo a vedere Regina Ascoli, l'ultima partita di campionato di Serie BKT Let's go, venite con me Andato 22 e ai Petar remixano Just Summer Vamos raga Siamo dentro lo stadio Vai Regina, facci la volare ancora Nella vita, perché non è mai finita Per un padre che ha sognato Amore E' il nuovo 31, Luigi Corotto Allè, bravo Carotto Fine primo tempo, 0-0 Non abbiamo giocato malissimo Abbiamo giocato abbastanza bene L'unica cosa, l'arbitro L'arbitro proprio di schifo, per non dire altro SIGANOTTO SEGA NOTTO Sì, ecco, chi ne pensi alla partita? Andiamo, ragazzi, da Lisbano, da Lisbano, va! I Ubers, vedetevi ragazzi, sono la regina, mi raccomando, andiamo presto da Carrillo, speriamo! Adesso che vuoi, Big Boys on fire! Big Boys on fire! Ragazzi, il finale di stagione è bellissimo, mamma mia, che emozioni, pazzesco! Ragazzi, sono appena tornato a casa, il video finisce qui, prossimo appuntamento Bolzano contro il Sud Tirol, io questo me lo conservo come ricordo, veramente è una partita bellissima, continuo a dirlo, mi raccomando, seguitemi su Instagram e ci vediamo dunque a un prossimo video, ragazzi! Ciao, 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 ciao! Vai regina, facci innamorare ancora per la vita, perché non è mai finita per un padre che ha sognato, per un bimbo appena